È sicuramente una pratica molto diffusa e con l'arrivo di Disney Plus in Italia vale la piena richiedersi se effettivamente la condivisione del proprio account con degli amici è qualcosa di legale o no. Prima di continuare, se oggi volete Disney Plus per un anno, potete averlo a 15 euro. Praticamente 1,25 euro al mese, che è veramente pochissimo. Rimanete con me perché fra pochissimi minuti vi dico come fare. Sono certo che molti di voi avranno un account Netflix condiviso con dei propri amici o addirittura con degli sconosciuti, magari visto che esistono dei servizi che permettono appunto di condividere il proprio account. Ma se fino ad oggi pagare un account mensile di Netflix è per molti considerato un qualcosa di accettabile, con l'arrivo di Disney Plus non tutti saranno disposti ad affrontare la spesa per un ulteriore servizio per vedere film e serie tv in streaming. Come dicevo pochi secondi fa, quindi se volete un account Disney Plus per un anno a pochi euro, potete farlo. Basta che troviate tre amici che, come voi, vogliono provare questo servizio. Disney Plus permette di utilizzare quell'account da quattro profili in contemporanea, cioè quattro profili connessi su quattro dispositivi in contemporanea. E considerando che ad oggi è possibile acquistare fino al 23 marzo la prevendita a 59,99 euro, 60 euro potete acquistarlo insieme a tre amici, 60 diviso 4 sono 15 euro l'anno. Avete tempo fino al 23 marzo? Ripeto, vi ho lasciato qui sotto in descrizione il link da cui acquistare la prevendita, quindi se siete interessati, affrettateli. Questa cosa che ho appena detto risponde già un po' alla domanda che ho fatto nel titolo del video, quindi è legale o no condividere questi sistemi? Cioè quello che vi ho appena suggerito, è qualcosa di legale o illegale? Ovviamente la possibilità di avere più account, quindi account multipli nel proprio profilo, è qualcosa pensato per la condivisione familiare, uno per voi, uno per vostra sorella o fratella, uno per vostra madre, uno per vostro padre e via discorrendo. Non è pensato chiaramente per prenderlo e darlo a chissà chi che poi si fa i fatti suoi col vostro account. Nello specifico, se leggiamo le condizioni d'uso di Disney+, ritroviamo solamente un punto dove si può intuire, e guardate bene, intuire che questa pratica non è considerata legale. È il punto identificato come password e sicurezza dove si dice che chi ha sottoscritto l'abbonamento deve fare di tutto per mantenere segreto il proprio account e la propria password, quindi evitare che qualcuno utilizzi i propri dati di accesso in maniera, come dire, fraudolenta o senza che lui lo sappia. Nient'altro, non c'è nessun altro riferimento alla condivisione dell'account nelle condizioni d'uso. Oltretutto se andiamo a leggere tutto il documento, io l'ho fatto chiaramente, vediamo che è un contratto di condizioni d'uso molto generico, non proprio specifico per Disney+, ma in realtà per tutto l'universo dei servizi Disney, e quanto appena detto vale anche per Netflix, che più o meno segue le stesse ormi di quanto appena descritto. Tutto ciò quindi ci rende ragionevolmente sicuri che possiamo condividere l'account con altre persone. Sapendo però due cose, prima di tutto che siamo su quel filo grigio tra legalità e illegalità, non è scritto che è illegale, però chiaramente si può evincere che non sia una pratica consentito, quantomeno quella funzione non è stata creata per questo motivo. E, secondo motivazione, è che da un momento all'altro Disney+, come Netflix e come altri servizi, possono decidere di cambiare le proprie clausole di questo documento di condizioni d'uso da un momento all'altro. E' da un po' che questi servizi stanno pensando a soluzioni per combattere quella che di fatto può essere assimilata alla pirateria. Soprattutto perché sono già stati stimati ingenti perite di miliardi di euro, di miliardi di fatturato per queste aziende, per via appunto degli account mancanti, cioè coloro che non si fanno un proprio account ma che lo condividono con altre persone. C'è da dire che, fin tanto che c'era Netflix che continuava a fare guadagni, quindi, come dire, faceva un po' finta di nulla di questa situazione, perché non è che non lo sanno che la gente condivide i propri account, ora con l'arrivo di Disney+, con l'arrivo di altre piattaforme, quindi con l'aumentare della concorrenza, possiamo iniziare a pensare che questa pratica possa essere considerata un po' più nociva rispetto al passato. In altre parole, inizieranno a pensare seriamente a delle soluzioni per evitare la condivisione dell'account. Comunque ad oggi possiamo stare tranquilli e considerare questa pratica non illegale, semplicemente perché tale modello d'uso non è esplicitato come illegale dal fornitore di servizi. Netflix, come Disney+, sanno che gli utenti condividono gli account e lo tollerano. Ciò potrà cambiare in futuro, ma per ora non ci sono problemi. Quindi, se volete provare Disney+, ve lo ricordo, ha poco più di un euro al giorno, avete tempo fino al 23 marzo, vi ho lasciato il link qui sotto in descrizione, trovate tre amici, addirittura si può andare anche oltre perché sono sette i profili che si possono creare, però io considererei il limite dei quattro dispositivi in contemporanea, se non inizieranno ad esserci problemi quando tutti si collegheranno, quindi il link qui sotto, 15 euro all'anno, fatelo con tre amici. E se volete parlare di questo argomento, lasciate il vostro argomento qui sotto in descrizione. Io vi ringrazio per avermi seguito, sapete cosa fare, iscrivetevi al canale se non lo siete, lasciate un mi piace e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!